In provincia di Cosenta, un gruppo di paesi come San Basile, San Demetrio, Valcarezzo, Spezzano, costituisce una di quelle che si chiamano isole etniche. Popolazioni albanesi si sono trapiantate qui dal 1470 per sfuggire all'invasione turca dopo la morte di Skanderbeck, loro capo e difensore. E qui hanno osservato intatte la lingua e la religione di rito greco. In un seminario si educano dalla prima adolescente i futuri sacerdoti, depositarie della tradizione. Giorno di nozze. La fondazione di una nuova famiglia riveste qui una intensa solennità. Cerimonia sfarzosa e ricca di simboli. Il pane della comunione offerto per tre volte agli sposi e il cibo che essi dovranno spezzare coi propri figli. E il vino sarà anche la letizia, il conforto della mensa comune. Poi si infrange il bicchiere, segno di un atto compiuto per sempre. Incrociando le braccia uno dei testimoni incorona tre volte gli sposi. Intrecciate di fiori d'arancio con nastri e fili d'oro, le colone rimarranno ai due capi del letto nuziale finché la morte abbrunerà quei nati.